Se tutte le strade portano a Roma, dalla capitale la grande commissione interparlamentare Italia-Russa è arrivata nel Salento, passando prima dalla Basilica di San Nicola a Bari. Eccoli schierati i parlamentari di Mosca, accompagnati dai nostri onorevoli Ugo Lisi e Salvatore Ruggeri, che nel capoluogo salentino fanno da Cicerone. Nella sala giunta di Palazzo Carafa sorrisi, complimenti, scambi di doni e appuntamenti fissati sull'agenda e l'invito rivolto al sindaco Paolo Perrone di tornare in Russia, rispolverando i vecchi ricordi da ventenne. Insomma, in occasione dell'undicesimo anniversario del protocollo di cooperazione tra i parlamenti di Roma e Mosca, ci sono anche momenti di conoscenza reciproca, con l'auspicio che da questo incontro possano nascere rapporti di collaborazione, scambio culturale e magari anche commerciale. I sei parlamentari sono giunti in Italia per affrontare con i colleghi italiani argomenti di estrema importanza, come la criminalità organizzata, la crisi dell'economia globale, il fenomeno vingratorio e la cooperazione culturale. La loro presenza qui da noi termina ad ottranto terra di pace e di accoglienza, come ha specificato il presidente della provincia Antonio Gabellone. E il senso di pace e di accoglienza, i componenti della grande commissione l'hanno sentito sin da subito, tanto da voler sponsorizzare il Salento, le sue bellezze storico-artistiche, naturali ed agroalimentari, una volta tornati in Russia. Siamo sinceramente felici per essere in questa regione bellissima, uno dei punti più belli dell'Italia. I russi amavano sempre gli italiani, amavano l'Italia. E sono sicuro che la nostra storia plurissecolare, nonostante questa storia, che la nostra cooperazione si sta appena iniziando. Abbiamo enorme potenzialità per la collaborazione. Nonostante tutte le difficoltà, la Russia continua a svilupparsi. Adesso sta uscendo dalla crisi. E sono sicuro che insieme riusciremo a raggiungere tante cose.